A gennaio ci sono le iscrizioni per l'anno successivo, quindi già a febbraio sappiamo quanti bambini ci sono in ogni singola classe. Se un'azienda privata ragionasse come ragiona il Ministero della Pubblica e dell'Istruzione, chiuderebbe. Sindaci contro l'avvio disastroso della scuola dove il tempo pieno è solo un miraggio alle nomine degli insegnanti in alto mare. Delle scorse ore l'ultima beffa a insegnanti che stavano per prendere servizio bloccati a causa di errori e pensare che abbiamo fatto i salti mortali tutta l'estate per garantire gli spazi adeguati, compresi quelli delle mense, tuona da Scandici Sandro Fallani, che non ha dubbi se la scuola fosse un'azienda privata avrebbe già chiuso. Abbiamo sentito noi fortemente, tutti i comuni, il senso di responsabilità di far ripartire la scuola a settembre lavorando a marce forzate nel mese di agosto per garantire i distanziamenti, gli spazi per lo sporzionamento della mensa, i banchi, i percorsi di ingresso e di uscita, il trasporto e poi ci troviamo a quattro settimane quasi dall'inizio della scuola senza che non ci siano le classi fatte e quindi senza avere la possibilità di far iniziare la mensa e noi siamo pronti già da settembre, siamo pronti anche con la società di gestione che sono in gran parte quasi esclusivamente donne che non lavorano da marzo. Non si può andare avanti così, dice sempre Fallani, che punta il dito contro il Ministero dell'Istruzione e invoca una riforma coraggiosa della scuola che non è mai avvenuta. Occorre con coraggio che il Ministero e il Governo facciano la riforma dei cicli e la riforma della scuola e che i sindacati si facciano un bagno di umiltà e anche loro si mettono nella condizione che al centro della scuola ci sono i bambini e il nostro futuro.